Avere una bocca sana e conservarla a lungo è imprescindibile per la salute generale dell'organismo, la qualità della vita, il piacere a tavolo e l'estetica. Un metodo c'è prendersi cura di dendi e gengive quotidianamente nella maniera corretta, così da rendere l'appuntamento con lo specialista regolare ma meno frequente possibile. Sono questi gli obiettivi della settimana dedicata alla cura dell'igiene orale indetta alla settimanale oggi. Un aspetto da non sottovalutare quello in questione perché una negligenza, come hanno detto gli intervistati al nostro sondaggio, può portare dei danni alla salute e alla tasca. Signora, quanto è importante la cura dell'igiene orale? Indispensabile oggigiorno. Molto importante. E io dico di sì. Per me in generale è molto importante. Tanto? Sì, sì. Una cosa, diciamo, per la bocca è una cosa molto ideale perché la bocca deve essere sempre, diciamo, rita. Quando si ha a che fare con l'igiene orale bisogna fare conti anche con un bel po' di pregiudizi in luoghi comuni. È fondamentale lavarsi i denti immediatamente dopo aver mangiato. La placca batterica è meglio che sia rimossa il primo possibile per evitare che ci siano ristagni e degenerazioni acide. Inoltre pulire i denti dopo i pasti previene la formazione di macchie da caffè, tè, coca cola e vino. Attenzione inoltre ai chewing gum, soprattutto senza zucchero, che non sono sicuramente un valido sostituto allo spazzolino poiché favoriscono la sedimentazione della placca sulle gengive causandone l'infiammazione. Anche in questo caso quindi prevenire è meglio che curare. La prevenzione ha aiutato molto nella diffusione della cura per i denti. Infatti adulti tra i 20 e i 30 anni non presentano carie.